Wabalabababab e bentornati su No Mamamazzo e bentornati da Lucca Comics and Games 2022 Hope, sottotitolo di questa esperienza lucchese. Benvenuti in questo video acquisti, ebbene sì è un video acquisti, io non ne faccio tanti ma spero di conquistarvi con questo video acquisti e portarvi. Nei miei altri video, mi scusi innanzitutto se notate che questa inquadratura ogni tanto è a scatti ma sto usando la webcam del computer. Perché sto usando la webcam del computer? Ve lo dico subito perché ora presto arriverà un'altra inquadratura in cui vi mostrerò da vicino i fumetti che ho acquistato a Lucca Comics, quindi ho voluto dare più qualità al primo piano sui fumetti ovviamente, non certo la mia faccia che vedete in ogni video e che non è assolutamente necessaria al fatto che voi sentiate la mia favella parlare. Ma cominciamo! Come vedete ho cambiato ancora inquadratura in modo che io sia in piedi e veda insieme a voi l'altra inquadratura. Innanzitutto ho acquistato allo stand della Salda Press il fumetto Penelope di Dado. Se non lo conoscete Dado vi dico, io l'ho conosciuto attraverso il fumetto Maschera Gialla, che era della Shockdom. Quest'anno ha pubblicato, diciamo era in due padiglioni, uno dei due era quello della Salda Press e proponeva Penelope. È un numero che mi ha incuriosito dalla sua stessa pagina Instagram, quindi se non lo conoscete vi metto qua sotto in descrizione la sua pagina Instagram così andate a vedere magari i suoi lavori e possono piacervi. Vi do una sfogliata perché è un libro, non si può acquistare solo giudicandolo dalla copertina, quindi i disegni sono il classico stile di disegno di Dado, molto cartunesco, molto come le strisce che ultimamente vediamo sul suo canale Instagram, ma è una storia nuova fondamentalmente, è una storia che non c'entra con lui o con Maschera Gialla. Non so di più, però mi ha ispirato. Vi faccio vedere anche il retro. Da mamili siamo convinti che nel buio si annidino le nostre paure e che abbiano la forma di mostri. Per fortuna poi questo terrore irrazionale scompare. Cosa succederebbe se scoprissimo da grandi che qualcosa effettivamente si agita tra le ombre? Penelope conosce la verità, perché vede da sempre misteriose creature a girarsi nell'oscurità e ha capito che dovrà affrontarle e scoprire, con tutte le sue insicurezze, se è davvero una guerriera. Con Penelope, Davide Dado Caporali e Silvia Savulente Landucci raccontano il viaggio di una giovane donna attraverso il senso delle proprie emozioni. Sono partito con Penelope proprio perché è l'unica cosa della Salda Press che ho acquistato, ma soprattutto perché è l'unica cosa indipendente che ho acquistato. Adesso passiamo a un'altra casa editrice medio grossa, una casa editrice che se mi seguite conoscete benissimo, sto parlando, della Bugs Comics e ho acquistato finalmente Valery, l'edizione cartonata a colori con un epilogo diverso. Così dicono che ci sia un finale alternativo alla storia di Samuel Sterna che più ha convinto tutti i lettori della Bugs. Ovviamente non è solo una copia cartonata qualunque, che avrei potuto prendere in libreria, ma è una copia con uno sketch, un disegno di Antonio Melnerich. Sono molto, molto felice di questo acquisto, di questa mia versione. Ma non è l'unica cosa personalizzata che ho acquistato. Sempre restando in Bugs Comics ho acquistato il numero di Theia, che sarebbe la Bibbia, la mappa di questa nuova terra del mondo di Kalia, che è il fumetto che uscirà il 9 novembre in Bugs, in Edicola, edito da Bugs Comics e sarà il nuovo fantasy da Edicola italiano. Theia è un po' la mappa, è un po' la Bibbia, ovviamente senza spoiler, di quello che è presente in questa nuova terra fantasy. Vi mostro appunto l'interno, in modo che vediate che non è un fumetto, ma mi sono scordato il disegno in questo caso di Riccardo Randazzo. E all'interno appunto, come tutti i fantasy, troviamo una mappa, troviamo la storia antica, gli alfabeti, le razze, le specie. Ci sono gli elfi, ci sono gli orchi, c'è una razza, una specie autoctona che si chiamano i Jaldest, spero di averlo pronunciato correttamente. Ci sono i Goblin, i Goblin non sono cattivi, anzi un Goblin è uno dei protagonisti, è la spalla della protagonista, quindi insomma, vedremo. Vedremo. Io il fantasy lo conosco solo attraverso i libri, Il Signor degli Anelli, Orchi di Stan Nichols e attraverso i film. Non ho mai, non mi sono mai cimentato nel fantasy da fumetto, non ho mai letto Drago Nero, per esempio, quindi entro nella mia prima esperienza da lettore fantasy a fumetti con Caglia. Spero di essere rapito da questo mondo. Ho parlato appunto di Drago Nero, che non ho mai letto Drago Nero, ma questa volta ho voluto dare una chance al team up Drago Nero e Conan il Barbaro, della Bonelli Editore, in questo caso. Bonelli Editore e Panini Comics insieme. Voglio vedere, voglio vedere se ci capisco qualcosa, comunque era un numerino che volevo acquistare. Restando in Bonelli, ovviamente, avendo partecipato all'anteprima mondiale del film Dampir, Il Figlio del Diavolo, ho voluto acquistare anche la nuova edizione che contiene i primi due numeri del fumetto del 2000. Si poteva scegliere una cover personalizzata, io ho scelto quella con Stuart Martin nel ruolo di Kuriak, perché era presente a Lucca e speravo vivamente di magari trovarlo in giro e farmi fare l'autografo sul fumetto, ma così non è stato, o meglio, così è stato, ma prima che avessi il fumetto, non sono stato così fortunato da ritrovarlo successivamente. Ho scelto Stuart Martin perché a mani bassa è stato l'attore che più mi è piaciuto all'interno della pellicola. Il fumetto all'interno non è nulla di nuovo, semplicemente racchiude i due numeri di Dampir, ma io non avevo il secondo e quindi andrò a leggere appunto il secondo numero di Dampir per vedere appunto le differenze con il film. Continuiamo con, questo è un piccolo adesivo di Batman, continuiamo con Labonelli, editore con Nathan Never e Justice League. Ragazzi, quando cavolo è uscita Nathan Never e Justice League? Io ero rimasto al numero zero, non sono rimasto aggiornato, però ho trovato nello store della Bonelli, questo formato in cartonato, tra l'altro non in formato da edicola, che contiene il numero zero che già io avevo più il resto della storia, quindi non mi resta che continuare la storia e ne parleremo insieme se vorrete. Questo è il numero zero che avevamo già visto e poi continua. Vedremo, vedremo come sarà la storia. Siete incuriositi? Voi l'avete letto? Fatemelo sapere. Restiamo in Bonelli, editore. Bonelli ha spesso il vizio con Dylan Dog di mostrare in anticipo di un mese quello che uscirà in edicola. Quindi io ho comunque acquistato il Dylan Dog 434 da edicola, lo sto leggendo, ma a Lucca c'era anche il 435 in anticipo. L'inizio di un nuovo inizio, due minuti a mezzanotte. Diamo una sfogliata rapida, rapidissima perché francamente anch'io ragazzi assolutamente non voglio farmi autospoiler, quindi via. Vi consiglio anche di acquistare questo, Memorie dall'Invisibile in formato cartonato, io non l'ho acquistato perché già ce l'avevo, ma se dovete regalare, acquistare, iniziare Dylan Dog, iniziate. Da Memorie dell'Invisibile è fantastico. Usciamo un attimo dall'ambito della lettura, ho preso, ho fatto un po' di shopping, di fast fashion, ho acquistato un paio di magliette finalmente della Bonelli che ho trovato degne della mia attenzione. Gli anni scorsi c'erano solo i nomi del personaggio, solo i loghi fondamentalmente, i font, non mi interessavano. Queste mi sembrano un po' più interessanti. Una maglietta con Dylan Dog scritto così, mi chiamo Dylan Dog, e l'altra con Io sono Tex. Dylan Dog è pur moi, e Tex è per un amico, è un piccolo regalo. Ragazzi, questo fumetto, invece passiamo dalla Bonelli Editore alla DC Comics, questo fumetto non l'ho acquistato a Lucca, già l'avevo a casa, l'ho portato a Lucca, tant'è che è ancora dell'RV Lion, perché sono riuscito a farmelo autografare. Da lì per meglio. Niente po' po' di meno che è lì per meglio. Chi è lì per meglio è il disegnatore di questo stile di disegno. Io ve lo consiglio tantissimo. Vi consiglio il Joker di Azzarello e Bermejo, vi consiglio Bermejo, Bermejo, pronunciatelo come volete. Vi consiglio anche quello che vi sto mostrando ora. Ve lo consiglio un po' a scatola chiusa questo secondo, perché non l'ho ancora letto. è Batman dannato, sempre di Azzarello e Bermejo. C'erano due versioni, io ho preso quella a colori, c'era la versione in bianco e nero, dove si poteva avere anche uno sketch di Bermejo incluso, ma francamente preferivo vedere il colore. Va da sé che anche questo me lo sono fatto autografare, ragazzi. Guardate lo stile di Bermejo è spettacolare. è bellissimo, quasi lo paragono quasi a quello di Alex Ross, anzi in certi versi lo preferisco a quello di Alex Ross. Forse Alex Ross è un po' più patinato, Bermejo è un po' più realistico, ma sarete voi a darmi il giudizio, la differenza, perché ora vi mostro un numero disegnato da Alex Ross, di cui ovviamente no, non ho la firma. Andiamo in Marvel. Con Marvel ho preso questo fantastico Must Have di Kurt Busiek, è disegnato da Alex Ross, dove lo stile pittorico, lo stile quasi fotografico di Alex Ross ci porta in una New York vista da un punto di vista dell'uomo della strada. Una New York ambientata appunto, come si dice, dove sono presenti i supereroi della Marvel, ma non visti dal punto di vista dei supereroi, ma dal punto di vista appunto dell'uomo comune che è costretto ad averceli tra le balle per tutto il tempo. Mi interessava molto questo concetto, mi interessava soprattutto però, ammetto, l'ho acquistato principalmente per le tavole, perché non ho mai visto Spider-Man disegnato da Alex Ross per un intero fumetto, solo in alcune illustrazioni, quindi volevo vederlo. Questa invece è la variant cover di Daredevil da Edicola, questa variant cover è il numero 1, ma sarebbe il 132, ed è disegnata, solo la cover, da John Romita Jr. e ha una strana patinatura, è come se fosse sabbiosa, vi assicuro che l'uomo sabbia non c'entra, ma è stranissima. Lo leggerò sicuramente, anche se con Daredevil lo sapete, io preferisco i cartonati, ma parlando di cartonati ho acquistato, ho fatto una cosa che di solito non faccio, cioè ho acquistato un fumetto di cui avevo già un'altra edizione. Ho preso il cartonato della saga Buon Compleanno di Straczynski e John Romita Jr., perché? Perché io avevo già portato a Lucca gli spillati di questa saga, perché volevo farmela autografare da John Romita Jr., ma vuoi mettere farti autografare due spillati o farti autografare un cartonato e, signore e signori, abbiamo l'autografo di John Romita Jr. su questo fantastico cartonato. Mi dispiace solo che non mi abbia visto portarglielo vestito con il mio cosplay di Spider-Man The Last Stand, perché onestamente era il motivo per cui gli avevo portato questa saga. Sarebbe stato il top per me mostrarmi con quel cosplay, sarebbe stato fantastico se mi avesse autografato anche il giubbino. Ragazzi vi faccio una confessione, io ho una grossa lacuna, non avevo ancora letto Vecchio Logan, Old Man Logan, fumetto che ha ispirato il film Logan con Hugh Jackman, quindi recupero, ho acquistato Wolverine Vecchio Logan. Spogliamo un attimo insieme. Anch'io lo vedo insieme a voi per la prima volta. Fantastico. Molto molto bene. Sono molto molto incuriosito. So che è un po' diverso ovviamente dal film, però sono curioso di leggerlo. Questa è una piccola toppa che ho acquistato, cioè no, anzi che era in omaggio o che mi hanno regalato, non l'ho ben capito, comunque grazie. E poi ho preso Deadpool Black, White and Blood. È una serie di tavole in bicromia, esattamente come Morgan Lost per i fan della Bonelli, per capirsi. Questa è di Deadpool, ci sono anche di Harley Quinn per la DC Comics e di Electra, sempre per la Marvel. Ho voluto partire da Deadpool e vedere se mi piace l'esperimento, lo continuerò anche con gli altri due personaggi. E Dulcis in fondo, ragazzi, non è un fumetto, ma è un artbook. L'artbook di John Romita Jr. Con questo si poteva avere il golden ticket, passare la fila, farsi fare uno sketch da John Romita Jr. e andarsene. Io purtroppo non ho trovato il golden ticket, che ve lo dico a fa, però comunque la mia firma di John Romita Jr. l'ho avuta. Con otto ore di sudata coda e tante amicizie create in quel lasso di tempo trascorso, ho avuto il mio autografo di John Romita Jr. e ho avuto anche più di quello che speravo, ovvero una foto insieme a lui. Ringrazio appunto Leonardo che mi ha scattato la foto. Nell'artbook chiaramente viene spiegato un po' anche, oltre alle illustrazioni, c'è anche appunto la storia di John Romita Jr., i suoi inizi, tutti i suoi anni editoriali, fondamentalmente. Bene ragazzi, io vi ringrazio per aver seguito questo videoacquisti, che è uno dei pochissimi videoacquisti che faccio, perché io fondamentalmente non acquisto spesso e se acquisto una cosa è una, e quindi non mi sembra necessario fare un video apposito. Però in questo caso, come avete visto, la roba era tanta, ho voluto condividerla con voi. Il video sembra anche corto, cioè la roba che ho acquistato sembra anche poca, ma vi assicuro che quando ero a Lucca sembrava davvero tanta, sia come peso nello zaino caricato sulle spalle o nelle borse, sia anche come alleggerimento del portafoglio. Comunque sono molto felice di tutti i miei acquisti fatti, spero di leggere tutto, però di leggerlo con calma e se voi siete interessati a qualcosa in particolare scrivetemelo sotto nei commenti, scrivetemi, ah per favore puoi leggere prima Old Man Logan che voglio una recensione? Io lo faccio. Scrivetemelo in più persone, chiaramente. Se più persone mi chiedono la stessa cosa, punterò su quella, altrimenti vado a sentimento e chiaramente non tutto quello che ho preso, non tutto quello che avete visto in questo video avrà un video dedicato, una recensione dedicata, quindi sarete voi a dovermela chiedere. Chiedetemela in tanti e la farò. Grazie ancora per avermi seguito fino a qui, come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video. Grazie a tutti.